Musica Buonasera e ben ritrovati a tutti i telespettatori di Potenza Rosso Blu anche questa settimana qui con voi con la nostra rubrica a cura di Meteo 7 Iniziamo subito col dire che dopo l'amara sconfitta di mercoledì scorso contro il Trapani, i ragazzi del Potenza avranno subito l'opportunità di rifarsi questa domenica alle ore 20.45 sfidando il Crotone presso lo stadio Viviani di Potenza Ma che cosa ci aspetta dal punto di vista meteo? Lo vediamo subito Sembra essere confermata infatti la presenza di cieli parzialmente nuvolosi una nuvolosità che fino a questo momento non dovrebbe causare alcun tipo di pioggia Unica nota stonata per la serata saranno di sicuro le temperature perché a causa di una discesa di aria fredda proveniente dalle latitudini settentrionali farà appunto calare la temperatura complici anche i venti da nord che appunto faranno aumentare ancora di più la percezione del freddo Diciamo che per tutta la durata della partita avremo una temperatura che si attesterà intorno ai 10 gradi Ma io voglio ricordare a tutti che di sicuro non sarà il freddo a sminuire o ad abbattere i ragazzi e le ragazze della tifoseria rosso-blu che indossando cappellini, sciarpe e molto probabilmente anche i guanti faranno sentire il loro calore a tutti gli 11 ragazzi che appunto scenderanno in campo Io per il momento mi fermo qui, non posso che fare come sempre il mio personalissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi della squadra Un saluto allo studio e a voi invece un bacio da Raffaella Un saluto allo studio e a voi invece un bacio da Raffaella